C'è un gran plotone al vertice di prima F che effettivamente stacca le altre senza soluzione di continuità. Ma in copertina non va soltanto l'apice, perché nell'incrocio del campus tra Irone e Lariano c'è un mix da testa coda dal peso strategico. E accade che gli ospiti pieghino le ali di un Irone che non sfigura. Salotti guarderà già al domani, le carte regola ce l'ha, ma un trend di punti ora è oltremodo necessario, considerato anche il calendario ostico che aspetta Iardeatini. Ma è stato forse più vitale di così invece il match contro il Lanuvio per il Monte Giordano, un vero crocevia. Nove turni senza vittorie e il fondale della classifica al debutto in seconda categoria. Ma la gestione Trapani, dopo tutto, offre continuità e i top in campo e fuori non mancano. Se il risultato delude, in parte indica anche la via. Sarà importante per i club d'introcaso non mollare la cima. Certo, non fino in cima, ma nelle corde la salvezza c'è.